Il ruolo anche di stimolo nei confronti delle istituzioni, i fondi per il coraggio calcinoma, per i test, per l'NGS, a che punto siamo? C'è sensibilità, devo dire però non possiamo ragionare, a mio avviso con singole iniziative e scoordinate, pensiamo al fondo dell'NGS, al fondo per il coraggio calcinoma, quello che è stato fatto per il polmone, però oggi abbiamo bisogno che tutto questo venga coordinato in una programmazione nazionale. Devo dire, e questo con un po' di raccrescimento, viene qualche giorno fa, è stato istituito un tavolo della ricerca che noi abbiamo tra l'altro chiesto insieme a Fadoi, Cime, Maicidi e molti anni fa, probabilmente molti di quelli che hanno lavorato per questo dovrebbero essere ascoltati un po' di più.